Eh, ho capito, ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Ma hai fatto solo una cosa? Che cosa significa? Non ci ho capito, ma nei nostri confronti non è giusta sta cosa. Noi non volevamo dire questa... Ma perché io sono sincera e lo faccio vedere? Aspetti, ti sei messa là a guardare. Ma qua vanno in gigantite le cose. Ma allora uno che si collega su Twitter, va su Internet, va su Instagram, Whatsapp, queste cose sono buone. E chi è che va su Whatsapp? Ma io non devo fare una cosa perché non me ne f***o un g***o. Perché non la prendo come manganza di rispetto. Ognuno con il suo computer può fare quello che vuole la Whatsapp web e fa quello che vuole. Ma chi è che c'ha Whatsapp web sul computer? Ma se mi metti a parlare qua finisce. Comunque, Nunzi, te parli, parli, no? Però non è che sei qua e hai visto tutte le volte che ce l'hanno tolto, le volte che siamo stati senza. Ma infatti non lo sapevo, ma io non lo sapevo. Ma come non lo sapevi? Te lo dico ogni volta che ti vedo, te lo dico. Beh, ho capito, però gente che sta alle sei mesi qua si collega su Twitter, va e fate le cose. Infatti io penso che si può fare. Non si potrebbe fare, però lo facciamo tutti. Allora fai lo stesso. Mi sono collegato su Hotmail perché oggi doveva arrivare una cosa per vedere l'esito di mia nonna e mi sono collegato per vedere questa c***o di mail. Lo capisci o no? Che è molto più importante di andare a Twitter, scrivere Christian e vedere i tweet. E perché tu non lo fai? Ma perché devi dire sempre le altre cose?